Cremosissimi e di un buono incredibile! Li proviamo? Fate rosolare gamberi in padella con olio di oliva, poi sfumate con vino bianco. Tagliate le zucchine in maniera grossolana e mettetele in un mixer. Aggiungete le mandorle, i pinoli, il parmigiano grattugiato, l'olio di oliva e frullate fino a renderlo cremoso. Poi aggiungete il sale ed il basilico fresco. Frullate fino ad ottenere un pesto di zucchine super cremoso. Scolate gli spaghetti e mettetele direttamente in padella con i gamberi. Poi aggiungete il pesto di zucchine e mantecate. Ed ecco dei super cremosi spaghetti al pesto di zucchine e gamberi. Allora, li proviamo?